Un imbuto che favorisce l'accumulo di magma e fluidi ideale per la formazione di nuovi coni vulcanici. I ricercatori dell'Osservatorio Pesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, hanno ricostruito la struttura tridimensionale del supervulcano sepolto dei Campi Flegrei. Il lavoro, pubblicato sull'autorevole rivista Scientific Report, è di particolare importanza dal momento che potrebbe aiutare a comprendere il meccanismo alla base dell'area vulcanica campana. I ricercatori, che hanno utilizzato una tecnica che si chiama tomografia elettrica, sono riusciti a ricostruire in 3D i primi 500 metri del sottosuolo. Una modalità che ha consentito di ricostruire nel dettaglio le strutture sepolte e offrire così uno spaccato più preciso anche sulle faglie attive nell'area flegrea. Dalla zona di degassamento di Pisciarelli fino alla piana di Agnano, l'Osservatorio Vesuviano ha quindi ipotizzato dove potrebbero comparire le nuove bocche eruttive in caso di ripresa dell'attività vulcanica. Osservatorio Vesuviano e NGB continuano dunque a tenere i riflettori puntati sulla caldera flegrea, con l'obiettivo di comprenderne i possibili sviluppi e migliorare e perfezionare i sistemi di monitoraggio sulle fumarole e i fenomeni idrotermali e sismici.